La palla canestro Trieste accende l'entusiasmo Giuliano vincendo gara 1 playoff in casa di Cantù. Non poteva esserci inizio migliore nella serie per l'ambito a promozioni in A1 da parte del team triestino. Qualità, consapevolezza, sofferenza e reazione hanno contraddistinto la sfida di ieri sera, una vittoria che proietta la squadra a gara 2 in programma domani in quel di Desio. Dopo il primo affondo di Ruzier i padroni di casa spingono siglando punti in serie, ma i bianco-rossi non sono da meno, trascinati da un Ruzier con la freccia rossa a 9 punti nel primo quarto. Il 17-11 esterno porta Cagnardi al primo time-out, dopo il quale Cantù intuza il mini a lungo triestino con Baldi, Rossi e Nicolic, ma le triple di Ruzier e Candussi e un tappin di Menalo mandano Trieste avanti di 10 al primo intervallo, 15-25. L'inizio di secondo quarto porta Cantù ad accorciare le distanze grazie a due canestri di Ikei, ma la squadra di Cristian aggiorna il massimo vantaggio a più 15 con Candussi e Reyes per il 21-36, che diventa più 17 con la tripla di Reyes e appoggio di Bildera 24-41, dopo che Bucarelli aveva spezzato il parziale Giuliano. Trieste si inceppa per qualche minuto, Cantù si riporta a meno 11 con tre punti di Young, i primi della sua partita, ma la tripla baciata dalla tabella di Ferrero fissa il 32-46 di metà partita. Avvio di terzo periodo, contratto su entrambi i fronti a sbloccare il punteggio Young con un 2-1 che costa anche il terzo fallo di Candussi. Trieste sbanda un po' e si vede Cantù a meno 5 dopo un 9-0 di parziale, 41-46, fermato da Bildera che segna i primi punti biancorossi praticamente a metà quarto. Ai Giuliani non riesce più niente, una tripla di Ikei a un minuto e mezzo dall'ultimo intervallo segna il sorpasso Canturino sul 52-51. Filhoi e Brooks reagguantano il vantaggio sul 52-55 dopo 30 minuti di gioco. Nell'ultimo quarto Trieste rialza la testa non prima della combinata Nikolic-Ikei che aprono l'ultima frazione a suon di triple. Reyes pareggia da tre a quota 58, Candussi commette il quarto fallo dopo meno di tre minuti uscendo zoppicando, ma i Giuliani con Bildera, Filhoi e Reyes trovano otto punti che dire preziosi e dire poco, anche perché dalla parte opposta Cantur risente della risalita alla bardata, condita dai liberi di Ruzier che chiudono i conti del match. Il primo round va a Trieste coperta dal grandissimo entusiasmo dei suoi tifosi.